Ciao amici di Youtube e non solo, sono qui per ricordarvi l'appuntamento di domani, mi raccomando puntuali alle 9.30 parleremo nuovamente di musica insieme a vinili che ho trovato nell'archivio della radio e vinili magari che mi hanno colpito per la copertina o perché magari particolari anche come musica sicuramente lei, non la conosco, ma mi piaceva l'album e così ho detto, ma si proviamo a sentire come sarà poi passeremo al mio cantautore preferito, uno dei preferiti, Ron e questo è un album magnifico ascolteremo anche un brano estratto da questo album passeremo poi alla musica dei Getro Tal, questo flauto di Ian Anderson che impreziosirà anche la nostra mattinata per poi chiudere, visto che in questi giorni fa caldo, sembra di essere un pochettino al mare non possiamo ancora metterci il costume, ma poco ci manca se continua così ho trovato su questa copertina di questo vinile una barca e quindi mi ha riportato al mare per cui ho detto, perché non passare anche loro, ovvero Steel, Crosby e Nash questi sono solo alcuni dei brani che passeremo domani mattina insieme sicuramente aspetto le vostre proposte e che dire, racconteremo magari anche qualche storia curiosa perché no, intanto vi aspetto, vi ricordo l'appuntamento domani qui puntuali mi raccomando, martedì 4 febbraio alle ore 9.30 ciao, buona serata vi aspetto